Ma le cose accadono per caso, esiste anche il caso, certo, in molti eventi della vita, cioè guai a noi se pensassimo che tutto è stato scritto in un fatidico libro del destino, ecco, il destino non esiste, è un concetto pagano il destino, un concetto primitivo. Certo, qualche volta ci fa comodo dire doveva andare così perché era destinato, ecco, il destino lo creiamo noi con la nostra capacità di rispondere o meno alle sollecitazioni che la vita ci presenta di giorno in giorno. Grazie a tutti. Osvaldo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.